E' terminato l'incontro, ancora non finisce la gara, l'arbitro però sta consultando il suo cronometro. Se chiamiamo così sono i primi tre punti del campionato, conduciamo per 1-0, gol su autorete del primo tempo. Ecco l'arbitro che si è a termine della partita, bravo, in bocca al lupo. Ecco, ecco, si salutano i giocatori dopo 90 minuti di grande gioco da ambo le parti. Ecco, ecco, Leo sta chiamando i compagni al centro per salutare il pubblico, il numeroso pubblico. 1-0 per la Virtus Castelfrentano, gol nel primo tempo autorete, ecco, adesso si accingono a salutare il pubblico, i ragazzi. 1-0 contro i Draghi San Luca Testa, vanno tutti a centro campo, si accingono a salutare il pubblico. Oggi una bella tornizia di pubblico, 1-0, i primi tre punti di questo campionato, nella prima di campionato, seconda cadevoria, girone E. Virtus Castelfrentano, 1-0, Draghi San Luca Testa, 0. Gol nel primo tempo su autorete. Signori e signori, alla prossima gara. Chi ha svolto questa ripresa? Ed è il cavaliere Carlo Iotto, il sottoscritto, vicepresidente della Virtus. Ecco, c'è anche il nostro coordinatore dei mister Gabriele Di Felice, c'è il presidente Gianni Casquini, segretario incombutibile con la folta batta alla talebano. Ecco il nostro mister, tutto ancora con l'adrenalina in poca al lupo. Bello, bella, bella gara. È terminata la gara, 1-0, 1-0 e la Virtus Castelfrentano. Ecco il mister Gabriele, con la nostra nuova segretaria, Millie. C'è anche il collega dirigente, il suo marito Massimo Nasuti. C'è il scrittolino.